sinistra o sinistra mentre io decido come perdermi meglio voi iscrivetevi al canale da cacchi gratuito vai io vado di qua mi sa che allora io vado di qui grazie a tutti grazie a tutti il letto del fiume Cene perché là a sinistra c'è la confluenza con un altro fiume tra l'altro che è più o meno in secca anche quello l'ampio letto del Noveglia che confluisce nel Cene praticamente tutto vuoto darne quel rigagnolo lì eccomi comincia la salita dici che a casa Ferrari c'è lo spumante? località i Ferrari chiede di Santo Polinare dice l'altro pellegrino dove si sale? te lo sei inventato? lo è inventato al momento infatti si è inventato al momento abbiamo passato case Ferrari quindi io ora continuiamo a salire e ora continuiamo a salire questa è una chiesa nooo magari Osaka è fra undici chilometri ah c'è una chiesa questa la stanno ristrutturando buongiorno dai due in cammino oggi siamo partiti presto da Bardia alle 5 e mezza per quella che si pronuncia una delle tappe più dure del cammino anzi forse più dura di questa si sarà solo quella di domani con l'arrivo a Pontremoli e niente oggi 27 chilometri e circa 1.100 metri di salita per la variante da Porcigatone porcigatone vabbè quel peso è lì e scopriremo se ha ragione la guida o le tracce GPS perché discordano sulla salita vedremo tu sei pronta? no fai niente camminiamo verso il sole andiamo buon cammino buon cammino la recinzione elettrificata non è per i cinghiali o i terremali è per te lontani per i terremi come Graziano che mentre passano fanno il catalogo di tutto quello comestibile appena passato Brugnola c'è un agriturismo mai chiuso c'è un agriturismo mai chiuso in questo modo per il mio carico venite a Osaka dove potete passare il tempo a molestare cani e gatti c'è una fontana e c'è un b&b il temuto momento della scelta quella lunga da 4 ore 25 o quella corta da 2 ore 30 Pino è già su quella da 2 ore 30 tu invece per cosa voti? per quella meno alta eh vabbè dai lo sapevamo niente Graziano sei in minoranza a Borgotaro verso Porgigatone vediamo se la strada sarà sempre così o se sarà meno agevole se saranno sentieri o cosa io ho voluto di un sentiero sassoso però vediamo sai che è l'ultima salita della tappa su su poi è tutta discesa o al limite il piano qui Graziano intervistato da una raggio di Trento che è famosissimo ormai oh ed ecco c'è la bocca di Santa Donna e da qui inizia la discesa verso Porgigatone qui è indicato Porgigatone Sud come neanche ci fosse il casello stradale vabbè andiamo ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.